Prosegue il giro del presidente Marco Marsilio nelle ex zone rosse della regione Abruzzo. Dopo l'area vestina quest'oggi il presidente si è recato a Villa Caldari di Ortona, istituita a zona rossa il 27 marzo, ma che già il 5 dello stesso mese aveva pianto la prima vittima da Covid-19. E proprio al bar Maschitti si è fermato il presidente, lanciando un messaggio di speranza per la comunità. Sì, è un luogo che ha vissuto davvero una tragedia importante, per noi è stato anche difficile affrontarla, affrontarla perché sentivamo il peso anche della sofferenza umana che c'era in questo territorio. Abbiamo dovuto adottare decisioni anche difficili come quella di costituire una zona rossa che ha prodotto sicuramente sul piano economico e sociale isolamento, privazioni, sacrifici, ma che è stata indispensabile per salvare vite umane e per evitare di trasmettere il contagio su tutto il resto di una città importante come Ortona. Quello che mi fa piacere è aver visto una comunità molto viva, molto attiva, a partire dai familiari della prima vittima, persone veramente molto capaci di ripartire con lo spirito giusto. E quindi l'invito che faccio a tutti adesso è di non avere paura di riprendere a vivere normalmente, di frequentare questi bellissimi luoghi, di partecipare alle sue attività e di riprendere appunto a vivere come dimostrano i dati epidemiologici. Ormai da giorni l'Abruzzo rimbalza tra 0 e 1 contagi, siamo davvero ai minimi termini e con una situazione assolutamente sotto controllo che ci permette di sperare in un futuro più sereno, anche se dobbiamo tenere sempre alta la guardia perché è chiaro che quello che abbiamo vissuto ci ha insegnato qualche cosa ma nell'insegnarci ci ha anche messo in condizione di poter dire che se dovesse arrivare una nuova ondata oggi abbiamo strumenti e armi diverse sia di conoscenza che di organizzazione per poterla affrontare e quindi non dobbiamo avere paura di riprendere le nostre attività, di tornare in strada, di tornare a frequentare bar, ristoranti, di aprire aziende, di fare insomma la vita di sempre, di farla con le dovute accortezze portando queste mascherine, queste benedette e maledette mascherine dovunque sia utile farlo perché questo ci consente appunto di poter guardare avanti e ripartire. Dopo tre mesi e più di sofferenza il primo di giugno abbiamo fatto ripartire questo bar che era un po' il punto di ritrovo del paese, la parte centrale per cercare di farlo sentire ancora vivo perché è qui che si incontrano tutti. Questo paese ha subito gravi lutti, il primo è stato mio fratello e con tanta caparbietà abbiamo mandato avanti questa cosa ce ne sono stati altri di decessi, tanti, troppi per un paesino così piccolo per una comunità così unita però abbiamo voglia di ripartire abbiamo voglia di ripartire, c'è tanta paura purtroppo la zona rossa come ho detto dappertutto come ho detto a tutti ci ha creato problemi proprio a livello umano perché un po' hanno tutti paura di noi hanno paura di venire in questo paese io lavoravo molto con la gente di passaggio, oggi non si può più io faccio colazioni, aperitivi soltanto alla gente del mio paese abbiamo chiesto, ho chiesto io ma a nome del mio paese penso ho chiesto la normalità, ho chiesto un paese che un piccolo aiutino ma per farci tornare veramente a vivere